Mi trovo davanti a qualcosa, forse a 47 anni davanti a qualcosa di estremamente privato, di estremamente intimo, affrontando un testo di Edoardo De Filippo. Si dice spesso di me che sono un regista napoletano, è vero, sono nato a Castellammare, però non sono figlio di Napoli, sono orfano di Napoli. E proprio la questione di orfano mi ha fatto affrontare Edoardo in un modo diverso, rispetto alla questione non della tradizione ma dell'eredità. Ho capito che Edoardo è la nostra eredità, l'eredità di quelli che si dicono orfani però, non figli di Edoardo, perché l'eredità non è un patrimonio che ti viene dato per essere consumato, ma è un patrimonio che tu devi usare perché continui ad esserci, che è molto diverso dalla tradizione. Non è per aprire una polemica, ma credo che sicuramente Edoardo, se avesse visto la situazione del teatro napoletano, adesso non sarebbe contento dell'eredità che ha lasciato, perché credo che, ad esempio, in una città come Napoli, sarebbe importante che una scuola di teatro fosse europea, che si insegnasse agli attori a recitare anche in inglese, e poi anche in napoletano, ma non solo in napoletano. Credo che l'uomo Edoardo De Filippo ha creato un ponte per diventare europeo. Credo che l'uomo Edoardo De Filippo non volesse essere solo lo scrittore di Napoli, l'autore di Napoli, ma voleva essere l'autore italiano e soprattutto l'autore del mondo. Ed è incredibile come all'estero questo comincia a sentirsi, no? E tutto sommato è il nostro Chekhov. Di colpo questi piccoli nuclei napoletani che lui racconta diventano dei grandi nuclei, diventano epici, diventano tragedie familiari che riguardano tutti, non solo Napoli, non solo l'Italia, ma riguardano tutti. A me oggi sconvolge quando si vede un spettacolo scritto da Edoardo De Filippo, e si vedono degli attori in scena, ovviamente bravissimi. Mi sconvolge quando si dicono, mamma mia che bravo, sembra sempre di più Edoardo. E io credo che qui ci sia il grande punto di domanda, ma è questo che dobbiamo fare? Sembrare lui o provare ad essere altro da lui? Il presepe è forse la natura morta più grande che esista della rappresentazione della famiglia, della Sacra Famiglia. È molto importante che il figlio continui a dire non mi piace il presepe, perché questo figlio permette al padre di essere contemporaneo. Cioè il padre ogni anno prova a fare qualcosa di nuovo, perché un giorno il figlio possa dire mi piace il presepe. Questo fatto che il figlio gli dice no, 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 lo tiene vivo. E allora una volta ci aggiunge le case del Novecento, una volta ci aggiunge le statuette che si muovono, arriva ad aggiungerci l'acqua vera. Nel momento in cui il figlio dice mi piace, sì, sa benissimo che sta uccidendo il padre, perché è arrivato il momento del passaggio del testimone. Sì, ora sono pronto a prendere in mano io il presepe, no, e a tenerlo vivo. Togliendo il realismo e facendo diventare simbolo, le cose del realismo si aprono infinite strade. Partiamo appunto dalla colla, la colla è incredibile come elemento, no, questa colla che tra l'altro mi ricorda la colla di mio nonno, questa colla che veniva scaldata con un odore meraviglioso per attaccare le statuine, no. Questa colla che anche quest'anno viene scaldata in ritardo per attaccare questo presepe, per tenere unita questa famiglia. E non riesce neanche più questa colla a tenere unita la famiglia, questa colla che non può neanche più attaccare la testa di uno dei re magi, no, perché non funziona più. Poi c'è, come dicevi tu, il simbolo del cibo e il simbolo della bevanda, che hanno a che fare molto con il sacro. Più che un Natale sembrano gli elementi di un'ultima cena, per poi arrivare forse all'ultimo che è nel terzo atto, che guarda caso è proprio, parliamo di presepe, di mangiatoia, che vuol dire presepe, con la discussione incredibile sui fagioli. Spesso viene solo letta come una questione ironica e comica, ma quei fagioli sono qualcosa di strepitoso, perché lui dice, io lo so benissimo che a casa mia si fanno i fagioli e poi si mangiano la sera, il giorno dopo, a colazione, a pranzo. So qual è l'usanza della mia famiglia, so che cosa bisogna fare, però poi io ho deciso che me li dovevo mangiare da soli e solo quando ho deciso che dovevo farlo da solo mi sono sentito meglio. È una metafora incredibile sul concetto di famiglia, di famiglia teatrale. solo nel momento in cui tu pensi a te stesso, a centrare te stesso, puoi veramente aiutare la tua famiglia. E drunghete, 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 mi mangiai tutti i fagioli e stetti meglio. Ho detto ok, accetto il confronto, accetto il confronto con il testamento e quindi la via di fuga è ovviamente sul fatto che io non metterò mai in scena una tendina, quattro porte, ovviamente non mi appartiene, non ci credo. Credo che però c'è una possibilità, che è quella del leggere il testo come una parte di un grande romanzo di famiglia. Se si mettono insieme i testi di Edoardo, si è davanti a un'epopea, a un grande romanzo di famiglia e capisci che non è solo teatro ma è letteratura. E questa ti dà anche una possibilità di ascoltare la parola scritta, che come sai, o meglio come sanno tutti i napoletani, la parola scritta in napoletano è diversa da come viene detta. E quindi questo è anche una possibilità di recuperare la scrittura, di recuperare il senso, è una delle lingue con più accenti possibili. Lui lo dice, io metto gli accenti perché negli accenti c'è l'azione emotiva, c'è il movimento emotivo. Sono chiavi che ti dà lui, appunto leggendo il testamento, la sua eredità, trovi delle chiavi di lettura diverse, rispettando lui. Edoardo ha ucciso quel teatro per arrivare a un teatro del Novecento, per arrivare a un teatro di scrittura, non di improvvisazione. È stato lui che è stato innovativo, cioè è stato lui che ha ucciso una tradizione e l'ha uccisa perché non si riconosceva in questa tradizione. Altrimenti non ci sarebbe mai stato il motivo di scrivere in casa Cupiello come l'ha scritto. Non dimentichiamo che lui ha scritto il secondo atto, come primo atto, che ha molta sceneggiata dentro. Perché scrivere un primo e un terzo atto a distanza di anni? Per allontanarsi da quel tipo di teatro. Quindi è bello stare nelle mani di un autore che ha fatto questo. Guarda, proprio due giorni fa una tua collega mi ha chiesto un'intervista dicendomi che mi metteva in nazionale se c'era uno scoop. Se ragioniamo in questi termini non vediamo mai veramente il lavoro che uno fa. Non si tratta di fare degli scoop, non si tratta di provocazione. Si tratta di immergersi nella tradizione e di accettare il fatto che sui nostri stabili, sui teatri istituzionali, noi non vediamo Coltesse, non vediamo Jelinek, non vediamo Erner Müller, che sono comunque dei classici. Accettarlo è capire che attraverso il teatro di tradizione possiamo forse confrontarci anche con questi autori, trovando dei linguaggi diversi per poterlo mettere in scena. Lo scandalo che ha creato il servitore dei padroni non era non previsto, era previsto. Era importante per me che il pubblico si schierasse. Se il pubblico comincia a prendere delle posizioni vuol dire che è anche pronto a delle grandi rotture. Dio grazie, mi sembra che sia pronto, in alcuni casi più dei direttori artistici, in alcuni casi. Purtroppo non sono contemporaneo, nel senso che io non creo nuovi linguaggi. Io creo linguaggi che già esistono, li prendo e li faccio miei, non lo dico per finta modestia. Mi piacerebbe essere un regista che viene ricordato per aver creato un nuovo linguaggio. I nuovi linguaggi sono i grandi maestri, i grandi maestri. La grandezza di Pina Bausch, la meraviglia di Aner Müller, che ha aperto una possibilità di scrittura talmente oltre, che noi siamo ancora in difetto. Siamo ancora in difetto rispetto a questi. Questi sono i maestri che hanno creato i grandi linguaggi. Io prendo a prestito dei linguaggi, ed è diverso. Basta guardarsi intorno e ti accorgi di essere piccolo piccolo. E in questo c'è l'accettazione di essere orfani, e in questo c'è la possibilità di confrontarsi con l'eredità. Cioè accettare il fatto che se ti va bene, forse un giorno, senza cercarlo, hai creato un nuovo linguaggio. Ma se cerchi di creare un nuovo linguaggio non lo farai mai.